Un metro e novanta centimetri Si rischia veramente di non farcela più, comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci diano una mano perché qui i costi saranno tanti. Abbiamo bisogno che tutti ci diano una mano e bisogna essere tutti uniti per affrontare questi che sono evidentemente gli effetti dei cambiamenti climatici. Domani tutto asili, scuole, primarie, secondarie, tutto chiuso, è bene che la gente stia a casa. C'è un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.